Confidiamo fermamente che se avvere quello che abbiamo chiesto con forza al Governo, che ci sia una nuova fiscalità locale che dia la possibilità ai Comuni di fare le scelte giuste nel senso dell'equità. E allora se questa ci sarà a livello di legge di stabilità o di legge successiva collegata alla legge di stabilità, ci potrà essere realmente un'inversione di tendenza anche sulla tassazione locale. La buona pratica è quella delle nomine nelle partecipate, perché io credo che c'è da essere fieri che non ci sono, che tutte le scelte hanno tenuto conto non solo della parità di genere, ma anche del fatto che la maggior parte delle nomine fatte dal sindaco siano nomine fatte su indicazione della società civile e non a dei partiti politici che peraltro non hanno inciso nelle decisioni del sito e che alla fine mi sono trovata, di questo sono particolarmente fiero, che su alcune nomine fatte sulla base appunto dei criteri di professionalità e non di vicinanza politica o addirittura di amicizia personale, giornali che hanno una visione del tutto opposto, dal manifesto al sole 24 ore, hanno detto lo stesso giorno le persone giuste al posto giusto. Grazie a tutti!